Benvenuti su MeaMedica. In questo video spiegheremo come accedere con l'autenticazione a due fattori. Prima impostiamo la 2FA. Andate su meamedica.it. Accedete con indirizzo email e password. Cliccate su il mio account nel vostro menu. Impostate l'autenticazione a due fattori per uno strato aggiuntivo di protezione per il vostro account. Questo è certamente importante. Quando conservate i risultati del DNA nel vostro account. Il vostro nome utente e email sono già inseriti. Cliccate su Attiva 2FA. Installate o aprite un'app esterna di autenticazione. Scansionate il codice QR con l'app di autenticazione o inserite direttamente il codice di attivazione. Collegate l'app di autenticazione con il vostro account MeaMedica inserendo il codice mostrato nell'app qui. L'autenticazione a due fattori è ora impostata. D'ora in poi accedete con il vostro indirizzo email e password. Il codice necessario è disponibile nell'app di autenticazione. Copiate il codice dall'app di autenticazione. Assicuratevi di avere ancora abbastanza tempo per usare il codice e inserite il codice. Contattateci se la vostra app di autenticazione non è più accessibile. Speriamo che queste istruzioni siano utili. Avete domande rimanenti? Ci piacerebbe sentire da voi.